bentornati ragazzoli sul canale oggi nuovo unboxing a tema one piece un'altra volta e sono i gattini la terza serie di gattini qualcosa è già uscito su tik tok oggi oppure l'assistente quindi dai partiamo partiamo attenzione spoilerissimo no 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 non è vero non è vero non è vero perché anche sulla vecchia c'erano sempre lo stesso si sicura una grandissima cosa quella è una figata vabbè ma perché sulla scatola comunque ci sta non è vero è vero è vero allora vai vediamo un po chi è il primo oh attenzione è il suo gecomoria gecomoria che bellino e quei cornini questa raga è una serie che hanno fatto aspetta che lo apro così lo vediamo mentre mentre lei apre l'hanno fatta sia ecco di one piece ma anche di attack on titans di naruto e di che altro di bleach mi pare anche di sailor moon prende sono tutti i gattini così bello che comoria che carico il mantellino che fai la codina e chiappette maleducata molto bellino molto bellino ma guarda che eleganza soprattutto si dentro ci dovrebbe essere ah ci stanno pure su questi su questa di one piece c'è sempre la io le si c'è anche il poster il poster no veramente carino però questo mi piace veramente tanto lei che comoria è molto bellino come c'è anche di tovaglia sexy che c'è anche a casa e guardate che tovaglia sexy che ci abbiamo noi a casa ti inquadra bene le cose come stanno rivediamo qua e sì ben vero in effetti c'è sanji così zoro che si sta strafogando sta strafogando da solo e poi ci stanno Rufi Asop che ballano perchè c'è c'è Brooke che suona Allora Ritorniamo Ritorniamo Mi dica Dicevo Cioè a parte che mi sa che c'ha il gilet Perché le maniche so di un altro colore Ma non è identico a quell'altro No Allora sì ma no Aspetta che prendo l'altro Ah vabbè Allora sì ma no brava Infatti allora quello A parte che hanno due colori diversi Ma che sei abbronzato Allora quello col vestito nero Dovrebbe essere Quello lì dovrebbe essere Intorno a marine Ford Comunque un po' più recente Quello arangiolo Dovrebbe essere proprio quando loro stanno Dalla basta Quindi all'inizio era antepista perché c'era l'orecchino Eh beh certo sì sì Era un bimbo prodigio Cioè che però Identico Però questo qual è il vecchio Il vecchio è quello arancione Il vecchio Cioè nel senso quello che abbiamo aperto adesso Quello abbiamo aperto adesso è quello arancione Ah ok Questo qui Questo c'ha tutte le striature Mentre questo c'ha i bottoni in rilievo Molto bellini Cioè quindi sono identici Però in realtà loro L'hanno rifatto da capo Perché questo c'ha i bottoni in rilievo Eh beh Gli faccia l'orecchino Anche qui il posterino Bra Zank È ignorante E crocotele è sempre stato ignorante Mugivara Sono cazzo ignorante Citazione ragazzi Se non cogliete Io mandrei a rivedere qualche Come vedete Su Twitch c'è Ah ok A parte c'è l'alert anche Su Twitch c'è l'alert Però ci dovrebbe stare il video della live No? Sì 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 C'è anche proprio la clip Solo di per te C'è la clip Eh vabbè Un'altra osservazione da fare Mi dica Duga Ed è Già me l'ero preparato A parte il colore dei capelli Che siamo passati da un giallo fluo A una specie di verde Si è fatto la tinta Allora stavo per dir Che cambia Però in realtà La pellicciotta qua È più cicciotta Mentre qui è più piccolina È vero Questo c'ha la coda Quest'altro c'è là sotto È vero Quest'altro le zampette Praticamente le vedi solo Se lo metti così Mentre quest'altro Ce l'aveva già a vista E vabbè Qua c'è la camicia da supercafone Mentre qua c'è la camicetta bianca La camicetta bianca Quindi Quindi non vorrei di una cacchiata Ma potrei Forse quello che abbiamo trovato adesso Che dovrebbe essere a sinistra Sì E credo che sia quello antico Diciamo che si vede prima Almeno nei flashback Mentre quello che hai a destra Dovrebbe essere quello Di quando combatte con Con Rufiello Ma potrei sbagliarmi Quindi in caso scrivetemelo nei commenti Non lo so perché Però anche in questo caso Se può dire che Sono identici quasi Ma l'hanno rifatto Perché comunque C'ha dei dettagli diversi Già a partita la pellicciotta Che se li metti vicini Si vede che A parte il colore Si vede che Questa ha le punte più larghe Che questa ha le punte più struttine No è vero Comunque si è più Questo è più fluffy Tu pronostico Secondo te A parte che Me o il melinceranno Che come apro ste scatole Però vabbè Rega tanto poi butto Dai Dico Kuma Kuma Chi è Kuma E ho capito Io devo Cioè C'è mezzo Non è che Non è che Non è che Non è che ho detto sinistra O destra Là Stavo ancora a pensare O forse Già ero partita Nella direzione sbagliata Pronti Non ho visto 3 2 1 Niente Sei riuscito a indovinare Che era Kuma Allora Aspetta 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 Io Mi devo soffermare Allora Innanzitutto Ma quanto è puccioso Allora Io lo so che lui Sta facendo un'altra cosa Però sembra che ti dice Abbracciami Ma allora A parte che c'hai Abbracciami C'hai i cuscinetti Che sono bellissimi Ma scusa Abbracciami Che c'hai i cuscinetti Che sono bellissimi Abbracciami E' molto Molto bellino C'ha le orecchie Che escono del cappello C'ha le orecchie Lui è molto bello Molto bello C'ha la divisa bellissima C'ha pure tutti i cuscinetti E c'ha tutti E beh Perché lui è il signore dei cuscinetti Abbracciami 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 Allora qui Qui è più spaventoso In realtà Eh ma perché lui Non parla Però qua C'è nel senso Qui è spaventoso Qui invece è Abbracciami Guarda C'hanno le espressioni diverse E' bellissima Questa mia No Sei pronti? Vamonos Non l'hai mai fatto vedere Ah meglio No Grande La topa delle tope Io ho un dubbio Ma perché hanno fatto Il gatto di una topa? Allora innanzitutto E' bellissima C'ha il vestito Con lo spacco Eh vabbè Lei c'ha Anzi che non gli hanno fatto La coscetta La coscetta Anzi che non gli hanno fatto Le tettone Però c'ha C'ha le spilline C'ha gli orecchini Bellissimi Eh con le serpenti C'ha vabbè La codina sexy C'ha tutti i capelli lunghi Ma soprattutto C'ha il vestito Con lo spacco Cioè è stupenda Molto bellino Molto bellino Ecco qua il posterino Allora Secondo me Questo è E Perché non posso Non voglio Non mi ricordo Che sono rimasti No Non mi ricordo Che è rimasto Oltre Rufi Quello che c'era più grosso Eh vabbè Ma perché Rufi Si allunga No ma perché lui C'ha pure la coda a parte Ah Rufi C'ha la codina a parte E lui è quello Che c'ha Va montato quindi Lui è affluggata Ovviamente la busta Eh ragazzi Ma perché lui Si allunga Sta incazzato Fracico Aspetta Che mo che gli fico Questa al cuore Ma c'ha anche l'ano C'ha la X C'ha un pochetto Di Eh si Si è incazzato Fracico Ecco siamo riusciti A mettere un fuoco C'è Bellissimo Lui è molto bello Lui è bellissimo Lui è molto bello Eh la X Allora secondo me La cazza che hanno fatto È che la scritta Gli la dovevano mettere Sotto la pancia Sì Ma sotto la pancia Ma c'ha i bottoni Eh vabbè Le cose non si fanno bene Non si fanno Il cappello Giustamente Quei tagli Oh sì Infatti è quello Che stavo a vedere No ma la X Beh è bello C'ha pure le nuvolette Incazzato C'ha pure le nuvolette Incazzato Eh lui è molto bello Allora Next Oh Gimbe Qui adesso no Invece qui adesso Mi incazzo Che è Che ti fa male Adesso tu Mi dici Qui cosa cazzo A parte il colore Del vestito Ma anche un po' De lui in realtà Ok Cioè tu adesso Mi dici Qui cosa Cavolo cambia Allora È uno Eh cacchia Rolla Allora dovrebbe essere No però A parte il colore Del vestito Cioè sono identici No però vedi C'ha il taglio Il capello è diverso Almeno il disegno Il disegno è diverso Allora Allora mentre prima Hanno detto No noi li rifacciamo E qui hanno detto Ammazza Siamo coglioni A falli identici Stampamo Cioè coloramoli Soltanto diversi Stampamo solo il colore Diverso E quindi ci abbiamo Questo è Wano sicuro Sì dovrebbe essere Wano E quest'altro Non mi ricordo Se è Marineford O l'isola degli uomini pesce Ma penso Marineford Tu sei il mio passato E il mio futuro Ah così Ma cosa fai Cosa mannaggia Non ci ho pensato a farlo Di riprendere il posterino Di quello vecchio Che cuotello antico Che cuotello antico Allora lui è un po' difficile Da inquadrare Perché c'ha il cappello Che comunque è abbastanza importante Vabbè ma D'artagnan E' sempre stato uno dei precedenti Allora posso dire che Pure lui è veramente 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 carino Cioè se lo metti vicino a questo Allora partendo dal presupposto che Kuma secondo me è il più bello in assoluto Perché a braccia mi non si batte Però a livello di rifiniture Di come sono fatti eccetera eccetera Posso dire che sti due secondo me sono i più belli in assoluto Sono molto bellini tutti e due A me Rufy pure mi piace tanto No lui è molto bellino Peccato che c'è nel senso Il nasino un po' scompare con la barba Eh vabbè Però no è molto 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 bello Poi c'ha tutte le rifiniture qua Ah ma quelli Ecco sono i dettagli che fanno la differenza in sti cattini Cioè lui addirittura ha i braccialetti Prima non ci avevo fatto caso Cioè sono molto 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 belli Cioè questi pure gli altri per carità sono molto belli Ma sti due di tutti quanti Forse sono quelli che mi sono piaciuti più di tutti Lui particolarmente Poi Kuma È Kuma sì È Kuma Anche lei è bellina con gli orecchini Dai rimetteli tutti vicini Che le facciamo una piccola carrellata Allora Beh dai 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 Guarda 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 che Ma perché fai le romanze Non è le romance Lui si presta proprio Eh ho capito Così pare che è sosta No No Sì 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 Grazie a tutti.